Con 32 voti favorevoli e due contrari ha approvato la proposta di legge al Parlamento in tema di selvicoltura. Con tale proposta il Consiglio regionale chiarisce così il regime degli interventi in particolare sui boschi e foreste e interviene sul codice dei beni culturali e del paesaggio per superare le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica anche solo per il taglio di un piccolo appezzamento. Questa è una piccola economia della Toscana ma a mio avviso ha più a che vedere proprio con la manutenzione, una manutenzione storica che fa della nostra Toscana anche la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre colline e delle nostre montagne che è diventata un'esigenza oggi più che mai perché mantenere il bosco vuol dire mantenere i fossi, vuol dire evitare anche il dissesto idrogeologico e con questa legge al Parlamento noi proviamo a chiedere che vengano trattati alla stessa stregua due elementi, due boschi che poi alla fine sono gli stessi. Spesso per tagliare un bosco ci sono dei tempi, c'è una finestra in cui bisogna intervenire e alleggerire la burocrazia in questi particolari appezzamenti ex articolo 136 vuol dire consentire di arrivare nei tempi corretti per consentire il taglio di un bosco sempre nella legittimità e con tutte le autorizzazioni necessarie. Però fa parte dell'economia della Toscana, fa parte dell'economia della montagna, fa parte della cura di un territorio spesso in zone che vengono lasciate a se stesse e anche disabitate. Quindi vuol dire avere a cuore un'economia di quella Toscana interna che può mantenere e fare anche agricoltura in un luogo che è sicuramente più lontano dalle periferie e per questo ha bisogno secondo me di avere non dico un'opportunità in più ma le stesse opportunità di altri territori. Quello che è veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che chiediamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendere le responsabilità come partito, ma direi come governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità, perché per il momento ci sono degli auspici e i toscani chiedono fatti. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna. Questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia, per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio, alleggerire il carico di burocrazia che grava sulle spalle di queste società, di queste imprese, di questi uomini. Penso che sia una battaglia di giustizia e quindi Fratelli d'Italia ha convintamente votato a favore di questa richiesta che il Consiglio regionale fa al Parlamento italiano. Serviva una semplificazione procedurale, questo sì, ma certamente non annullare le autorizzazioni che dovrebbero tutelare i paesaggi di maggior pregio della nostra regione, dei quali ci vantiamo spesso quando andiamo a fare promozione turistica, ma che ci dimentichiamo di tutelare o addirittura cerchiamo di superare in qualche modo. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e negli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al Governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal Mibact per il paesaggio e per il loro valore ambientale e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni, prima ancora che beni economici. Invio per la PDL 44 che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale. Sono consapevole del rilievo politico e anche di scontro che è stato dato a questa legge, ma rivendico rispetto alle scelte che ho fatto come Presidente di Commissione di averle sempre volute fare nel rispetto della trasparenza e della correttezza procedurale, dando soprattutto dignità al ruolo dei consiglieri regionali e delle commissioni. Se esiste una prima commissione esiste per fare tutti gli approfondimenti e gli accertamenti del caso e quindi quella è la sede vera e prima dove si deve animare la discussione e dove la discussione deve essere profonda. C'erano alcuni aspetti eccedenti i rilievi della Corte dei Conti, in particolar modo quelli relativi ai requisiti per l'accesso alla carica di direttore che venivano modificati da una disposizione. Ho firmato un emendamento con il quale questa norma è stata esclusa dalla proposta di legge. C'erano altre norme che potevano presentare profili di estraneità ai rilievi della Corte dei Conti, per questo ho chiesto che nella seduta della Commissione fossero presenti i responsabili competenti della Giunta, relativamente e soprattutto alle risorse umane, i quali mi hanno confermato punto per punto quali aspetti della legge fossero inerenti ai rilievi della Corte dei Conti e di conseguenza abbiamo messo in votazione e approvato un testo che è esclusivamente un recepimento di quegli indirizzi. Prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere, però arriviamo a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione alla normativa della Corte dei Conti, a ciò che ci impone l'indirizzo della Corte dei Conti. Quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai è da fine anno scorso che viene portata all'attenzione dei commissari, però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta, cioè un adeguamento. Rispetto delle regole, rispetto dei principi di trasparenza, rispetto dei principi di legalità non accettiamo forzature, non le abbiamo mai accettate, anche quando il Presidente Leggiani si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che i commissari fossero sottoposti alla preventiva attenzione. Su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti nel rispetto pieno di questi principi, a questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento, nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in commissione, il testo che verrà licenziato. C'è semplicemente da fare un adeguamento normativo, paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato già nei bugliani, almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano, ecco stavolta è semplicemente un passaggio tecnico, va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori, non segreti ma pubblici perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore. È necessario fare una legge che si attenga bene a quelle che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine. Per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative. Noi siamo convinti che questa legge vada approvata, vedo forte resistenza nelle altre forze politiche, noi continuiamo la nostra battaglia e rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali dove la politica deve raggiungere la propria funzione, farsi supportare dalla tecnica ma mai essere subalterna a questo aspetto. Quindi noi siamo convinti delle nostre proposte, la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale senza ulteriori rinvii quella norma venga approvata così come noi l'abbiamo concepita che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Gianni per come la proposta infatti a noi convince è arrivata in Consiglio regionale. Torna sul tavolo della discussione la tirrenica infrastruttura importantissima che potrebbe portare non pochi vantaggi al territorio toscano. E' notizia di poche ore fa la promessa del Ministro Giovannini di farsi carico del problema annoso sbloccando pratiche necessarie che darebbero avvia a lavori. La Lega sta valutando questo gioco delle tre carte perché già in campagna elettorale per le regionali l'allora Ministra De Micheli diceva che c'era un miliardo per poter fare questo corridoio tirrenico. Noi abbiamo trovato finalmente una quadra sia tra forze politiche anche di diversa estrazione però sembra che ancora non ci siamo. Adesso si appellano alla problematica di chi dipende questo corridoio tirrenico se da Sat o da Anas. Il 27 gennaio scorso il Presidente Bargone aveva detto che ormai non era più competenza di Sat per cui era di Anas. Ora si ritorna di nuovo a creare un problema sulla questione. Ci sono state anche delle perse di posizione da parte delle associazioni, in particolare da parte della Camera di Commercio che noi sosteniamo perché a un certo momento non pretendiamo l'autostrada ma una Aurelia in sicurezza sicuramente sì. Noi chiediamo che venga inserita tra le priorità anche perché ormai è una, passatemi il termine molto mare in mano, una novella dello stento che dopo che abbiamo trovato l'accordo fra i vari enti locali abbiamo trovato tutto e ci manca praticamente il commissario. Quindi siccome il corridoio tirrenico soprattutto per la provincia di Grosseto è fondamentale e dal punto di vista turistico perché la attraversa interamente ma direi che è fondamentale anche dal punto di vista imprenditoriale per quelle che sono ovviamente il passaggio di merci. Da Rosignano fino a Grosseto è praticamente riadattata mentre da Grosseto in poi oserei dire che è una strada veramente pericolosa e che ogni anno porta decine di morti. Non capisco perché non debba essere messa in una priorità ed avere un commissario e quindi portare finalmente a termine quello che è un problema toscano infrastrutturale. Ricordare nel 200esimo anniversario della sua morte un passaggio che avvenne qui con la sua famiglia, con il canonico Filippo il 29 di giugno del 1796. È un modo per dire che stiamo ripartendo, che c'è voglia di guardare a quella che è la bellezza, la storia. La Toscana è questa, è terra di diritti, è terra di opportunità. È una terra che ha avuto tanti personaggi illustri che sono nati qui, ma anche tante persone che hanno scelto la Toscana proprio perché è terra di diritti, è terra di opportunità. E allora oggi essere qui vuol dire mandare un messaggio di speranza, un messaggio di speranza ai cittadini. Stiamo ripartendo, lo stiamo facendo esattamente con lo spirito della Toscana, ben ancorata con i piedi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma anche con le ali che guardano al futuro con la speranza di un futuro migliore. Si apre nel segno della ripartenza e della memoria storica l'esposizione Noe Napoleone a 225 anni dall'anniversario dell'incontro del giovane generale, il canonico Filippo. Ci sembrava giusto oggi aprire la mostra su Napoleone Bonaparte, quindi che sarà dal 29 fino al 30 settembre. Una mostra veramente che voglio ringraziare anche tutti gli enti, le fondazioni, che hanno permesso di organizzare questa mostra, dandoci le loro opere, quindi il quadro di Sarri, lo stato di famiglia di Napoleone Bonaparte. Ci sono delle cose veramente curiose e belle da vedere. L'esposizione questa sottolinea il curatore che esalta il forte legame fra Bonaparte e San Mignato. Questo rapporto speciale nasce da una visita che Napoleone fa a un lontano parente di Bonaparte e di San Mignato, un interesse per Napoleone, per la memoria napoleonica, studi, iniziative che arrivano fino al presente e quindi la mostra racconta proprio la storia di questo rapporto speciale tra Napoleone e San Mignato. Oltre all'esposizione al Museo del Conservatorio di Santa Chiara, altre saranno le iniziative nel segno della memoria storica. La più importante è la revocazione che andrà in scena sabato 10 luglio. La più importante è la revocazione storica di Napoleone Bonaparte che entra in San Mignato con tutti i figuranti vestiti di quell'epoca, quindi l'esercito che accompagnava Napoleone Bonaparte con i cavalli, con lui che entra quindi chiaramente e che incontrerà la nobiltà san minatese, chiaramente questo in piazza Bonaparte. Bonaparte. Buongiorno. 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 Buongiorno.